Ragazzi, sempre benvenuti qua su Opinione di Luzio, siamo qua per l'elefantone marketing in diretta online su YouTube la prima market web su YouTube che viene lanciata in rete proprio diciamo qua abbiamo tre bellissimi oggetti subito in venue vedrete il numero sotto in pressione ragazzi, affrettatevi, prenotatevi, fate fretta questo è l'oggetto, logicamente saremo molto più veloci del solito, più rapidi del sole più rapidi del vento, più rapidi del sole, più rapidi della luce vedete qui con voi impresso qua un quadro eritreo dove cerchi fatti a mano tutti lontani e equidistanti fra loro un punto unico una rarità della mano africana nel creare questi cerchi più di 18 ma che dico più di 18, più di Leonardo, ma che dico più di Leonardo, più di Luzio Show e voi questo oggetto sarà vostro, affrettate, chiamate, chiamate, parte l'asta ecco qui per voi, 159 euro è folle, avete ragione, 99 euro è una folle idea ancora e al loro opinione di Luzio Show con le sue lasagne emiliane vi propone 29 euro affrontatevi, affrontatevi, telefonate, telefonate, sempre in diretta ragazzi vi faremo ascoltare quello che è, l'acquisto c'è stato, regia, regia, guardate, telefonate, telefonate è arrivato qualcuno in linea? Qualcuno in linea è arrivato a telefonare? è arrivato? Non si sente nulla, regia? Com'è? Qualcuno ha chiamato? Ha comprato? ha comprato qualcuno? Pronto Luzio, Marco da Savona vorrebbe sapere quanti sono i cerchi, grazie se li conti da casa lei 29 euro, pure i cerchi vuole sapere, lasagne emiliane, li aspetta, li compra? Silvana da Firenze, Silvana da Firenze conferma i cerchi, conferma i cerchi 29 euro tutto lo vuole? Perfetto, già online che vola, che vola, hai visto? Ha volato, ha volato, è volato passiamo alla seconda offerta, un mitico vasso argentino, logicamente anche lì c'erano gli indiani in Argentina questa è un'operazione di risalto culturale, unico nella sua fattispecie vedete la combinazione del legno arbusto tipico della Patagonia con i filamenti della foglia dell'arbusto pennuto e si chiamava, grazie a voi, la bellissima pianta di caociu caociu, sì, ma naturalmente non vi preoccupate ecco che qui lo vendo, lo voglio vedere, sapere un'altra impressione, ecco il vostro numero, vedete, vedete Lucio scusa, Lucio scusa, Filippo da Rocca Cannuccia chiede se si può usare come vaso da notte certamente si può usare come vaso da notte, è comodissimo, togli le penne un attimino lei c'entra qui, c'entra qui per farla tutta Filippo da Rocca Cannuccia conferma il vaso, Lucio, grazie ma compre senza vedere i 29 euro è sicuro che a basso l'offerta 29, sai può essere pure che facciamo confermato 29 euro per Filippo da Rocca Cannuccia io veramente, ok, ho capito facciamo così, l'altimino abbiamo tagliato i 9959 lasagne emiliane vi aspetta, qui casca tutto altrimenti, le offerte sono folli, l'idea è pazza ma le lasagne emiliane danno follia il gusto palatativo ecco a voi il mitico quadro di Good Tooth e Tooth, questo come vedete è, viene proprio, Good Tooth questa è una bozza, vedete il mitico vaso di una fioriera di cui si sbocciano i fiori e appassiscono di una virtù che è maestra del suo leggiadro segno inconfondibile del tratto del suo, della sua birra ecco qua, originale, 100 pezzetto autografato e lasagne emiliane vi aspetta che diri, grazie a voi, questo numero di telefono Lucio, Lucio, scusa, Lucio, scusa Marco Damarotta vuole sapere se è possibile colorargli il quadro colorargli i colori vorrebbe ma non c'è problema se compro un'illuminazione a casa rossa e verde, quella la regaliamo come optional lo vedi multicolor che dici, l'offerta possiamo far partire l'asta o lo compra? vorrebbe sapere il prezzo il prezzo divenza a voi era 159 perché era folle e le 99 euro perché era pazza lasagne emiliane vi aspetta 29 euro che dice questo di Marotta? i colori gli diamo in omaggio via facciamo questa offerta straspeciale il signore vuol sapere se aggiungiamo anche un pacco di emiliane con il quadro quella vi aspetta ma dovete considerare riempirvi il vostro carrello della spesa c'è un centro commerciale a Marotta? no, il signore dice che un disegno così glielo fa suo nipote quindi se gli diamo le emiliane lo prende se no non è interessante allora l'ho capito queste emiliane vi aspetta ho detto non si compra con il 4 vi aspetta sapete dove trovarle su opinione di noi ci sono trovati 4 29 euro non le sembra folle non le sembra un pazzo non le sembra che anche emiliane vi aspetta purtroppo il signore di Marotta ha messo giù Luzio continua pure a fare la televendita grazie ho capito ma i 29 euro chi ce li dà adesso è per guttuso chi ce li dà chi ce li dà c'è un altro telefonato in linea sì Luzio scusa sta telefonando la caserma di Villar Nova Villar Nova e dice che hanno una denuncia di furto per quel quadro lì cosa devo dire? grazie non ce l'avevo più è ritirato dall'asta dica che era un falso era una coppia purtroppo ci siamo sbagliati naturalmente ma lasagne emiliane vi aspetta la prossima elefante market mania e qui Farnamarki non c'è e il baffo con i suoi Rolex non c'è ma opinioni di tutti i suoi vi aspetta vi è per qua ragazzi lasagne emiliane vi aspetta ragazzi vi è per qua ragazzi Grazie a tutti.